Nativa di Caltagirone, consagrata da quasi 30 anni, lascerà subito dopo Ferragosto Gela per trasferirsi a Catania. Lei è Suorenza Boscarello, direttrice dell'Istituto Suor Teresa Valsè di Macchitella. È già stata nelle comunità di Cesarò, Roma, Cireale, Biancavilla e Modica. Adesso una nuova esperienza dopo otto anni vissuti intensamente tra noi. È stata insegnante nella scuola primaria e responsabile della catechesi in preparazione ai sacramenti dell'Eucharistia e della confermazione dell'oratorio e della polisportiva. Posso dire di aver dato tutto quello che mi è stato possibile senza ritirare niente di me, senza pensare a un attimo di riposo o di qualcosa che naturalmente potesse pensare a me stessa. Io, poiché credo molto nella mia scelta, nel dono di me, ho cercato di far tesoro di tutti i momenti, di tutte le luci che il Signore mi ha dato perché il nostro servizio, la nostra presenza potesse essere luce, potesse essere forza, potesse essere indicazione per i giovani e le famiglie. Il posto di Suorenza sarà preso da Suor Concetta Cannone, sociologa, già Presidente regionale del Centro di Formazione Professionale e dell'Obbligo di Istruzione per la Regione Sicilia. Si tratta di una donna semplice, determinata, coerente e disponibile al dialogo e al confronto. Facendo un basso indietro, dunque andando indietro di otto anni, cosa è cambiato da allora ad oggi? Sono arrivata, ecco che ero già stata a Gela e quindi ho notato subito che il territorio gelese non era quello di vent'anni fa quando l'avevo lasciato io. E allora questo mi ha spinto a far sì che questa fosse una casa aperta, che tutti coloro che entrassero, che avessero desiderio, insomma, bisogno di una parola, di un'attenzione, di un affetto, ecco questo non l'ho fatto mancare. E come dicevo prima, il desiderio, l'intenzione, l'impegno, ecco perché ci fosse una crescita totale. Credo che i risultati, di risultati possiamo parlare perché non parliamo di questo, non penso assolutamente a questo, però si vedrà dopo. Un quadro si vede sempre da lontano, così io vedrò in me, ecco voi lo vedrete nel territorio, io vedrò in me, ecco la bellezza, la bontà di questa esperienza un poco a distanza. E cosa lasciare a Gela? Un pezzo di cuore perché noi sappiamo che la nostra è una parentesi che si apre e si chiude, così ha voluto Don Bosco, così è scritto non solo nelle nostre Costituzioni ma anche nel diritto canonico. Per lavorare, io dico bene nel senso che ho messo tutto a me stessa, in questo senso non ho la pretesa di dire che ho fatto bene, no. Per lavorare, ecco, ho messo tutto a me stessa e quindi bisogna naturalmente anche affettivamente, ecco, non legarsi ma, ecco, lavorare con affetto, lavorare anche con il cuore, non solo con la mente. E questo io l'ho fatto, per cui, certo, lascio forse un pezzo di cuore, mi porto un pezzo di cuore, ma questa è la bellezza della vita. Grazie.